Grazie a tutti. 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 Signori, questo è dedicato a tutti quanti voi. Un grazie da tutta la redazione di Eurochannel e Idù Matt. Signori, a voi, ufficialmente una canzone sotto le stelle edizione 2017. Buon divertimento! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon appetito. 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 Oh, 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 oh Quando tu ripiame le targo una lezione, si, una lezione Esce la recorda fino alla pension, si poi la pente e la pension L'ironia per la sorte non la più legate, adorate, debemos stare con il progettino. Pochano, 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 la guarda è sicuro, la stanno pochano, non stai sentilando, non stai sentilando, pochano, 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 pochano. L'uomo è sicuro, non stai sentilando, 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 non stai sentil e mi studiare risposta e che chi lo ha serviso è che chi lo ha schlimmato e che chi è ven heartbreaking e che vi tro sniper e mi studiare risposta e che avrei ancora che vi troppo comida non s�동e e che vi troppo ma che bravi ma che prende il pubblico che non lo sapeva grazie, buonasera tutti voi in un altro guarda questo vino che mi suona anche il violino ma che ne è un vino grazie grazie, grazie